Un incontro con protagonista uno dei più popolari campioni del mondo del calcio italiano, Marco Tardelli, sul palco di Piazza del Duomo con la figlia Sara, ricercatrice di antropologia all'Università di Genova e autrice della biografia del padre recentemente pubblicata con il titolo Tutto o niente la mia storia, è stato quello conclusivo dell'edizione 2016 dei Dialoghi sull'Uomo, edizione che ha avuto per tema il gioco. In una carriera da professionista così importante come è stata la sua, in che misura il calcio è stato un gioco? Per me è sempre stato un gioco il calcio, non mi è mai passato per la testa che fosse un lavoro, altrimenti non sarebbe stato più divertente. Del calcio oggi si vedono anche aspetti non proprio edificanti, diciamo anche abbastanza recentemente questo. Secondo lei qual è la bellezza di questo gioco che lo fa rimanere comunque uno degli sport più popolari al mondo? Io credo il campo, la possibilità di giocarlo da tutte le parti, in casa, nei giardini, dove ti capita, ma il calcio è bello quello lì in mezzo al campo, il resto mi sembra un pochino cambiato. Qui a Dialoghi ci sono tantissimi giovani che partecipano agli incontri, lei che cosa vorrebbe dire a una platea? Ha qualche messaggio da passargli? Io credo che bisogna fare quello che a uno piace fare, io ho avuto questa fortuna e soprattutto la fortuna di non mollare mai e questo non bisogna fare, non bisogna mollare. Lavorare a questo libro per lei in che misura è stata una scoperta del suo padre? È stata una scoperta del nostro rapporto perché ci siamo messi alla prova, no? Perché non sempre lavorare insieme è facile, tanto più quando ci si ama così tanto come tra padre e figlio. È stata una meravigliosa scoperta perché lui ha portato alcune cose, io ne ho portate altre e veramente siamo riusciti a fonderle insieme. Quindi è stata un'esperienza stupenda, penso irripetibile con mio padre. Grazie a tutti.